Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca torniamo a parlare dell'omicidio di Terra Nuova Bracciolini. Questa mattina l'udienza preliminare l'omicida ha optato per il rito abbreviato. Verrà giudicato con rito abbreviato Braulio Pavel Martinez, il 33enne domenicano accusato dell'omicidio di Joel Ramirez Seipo. Questa mattina al Tribunale di Arezzo si è infatti svolta l'udienza preliminare. Abbiamo fatta questa richiesta sulla base di valutazioni tecniche che abbiamo fatto fare, che abbiamo commissionato a dei tecnici periti e il giudice ha accolto la nostra richiesta. Il 33enne ormai da nove mesi è rinchiuso nel carcere di Perugia con l'accusa di omicidio volontario per aver scagliato un arghile contro il connazionale nel mezzo di una rissa fuori da una discoteca di Terra Nuova Bracciolini. Un frammento lo colpì in pieno alla vena giugulare provocando una grossa fuoriuscita di sangue fino a causarne la morte. Era il primo ottobre del 2023. Tutto abbreviato e condizionato da delle consulenze, di che consulenze si tratta? Una consulenza tecnico-balistica che riguarda la dinamica di questo tragico fatto e una valutazione medico-legale. La difesa puntava anche ad alleggerire il capo di imputazione a domicidio preterintenzionale. È uno degli aspetti su cui ci batteremo e valuteremo anche sulla base delle consulenze che abbiamo prodotto. I familiari della vittima si sono già costituiti parte civile. Di là della speranza di avere un ristoro economico che ovviamente non si sa se avrà luogo, quantomeno garantisce loro di partecipare attivamente ad un giudizio che si spera possa in qualche modo portare una verità sulla morte comunque di colui che era padre, fratello e figlio. È perfettamente conscio di quello che lui ha cagionato, tanto che oggi abbiamo prodotto una lettera manoscritta alle parti offese con la quale appunto chiede perdono. La prossima udienza in programma per il 23 settembre si tornerà poi in aula il 15 ottobre. Ancora furti a San Giovanni Valdarno, colpito lo spazio, Pineta che ha subito tra furti in soli dieci giorni. Il primo l'ho visto martedì scorso, il secondo nella notte tra il venerdì e il sabato e il terzo ieri che siamo arrivati e lunedì avevo fatto montare una grata di ferro alla finestra e è stata smurata completamente per poter rientrare senza trovare niente ovviamente perché comunque alla cedda non ci si lascia più nulla però il danno c'è comunque. Tre colpi nel giro di una decina di giorni, nelle mire dei malviventi, il Pineta ha un chiosco bar di San Giovanni Valdarno. Il ladro in tutto avrebbe portato via circa 650 euro, importanti invece danni che si è lasciato alle spalle. Penso che non sia più sostenibile una cosa così, insomma. Io, insomma, per noi è una grande... È una bella volta, insomma, non è che si lavora per lui, è faticoso anche mantenere lo spirito per andare avanti. Prosegue così l'ondata di furti che ha toccato San Giovanni Valdarno causando perdite e danni agli esercizi pubblici creando anche una certa preoccupazione. Continuiamo a subire furti tutti i giorni, non è sostenibile questa cosa. Che facciano qualcosa, che intervengano, che vadano a prenderlo. Cioè non può essere il paese, la comunità a dover applicare delle precauzioni. Cioè questa notte sono rimasti dei miei amici, clienti a controllare il bar fino alle 6 di notte. Mi sembra assurdo questo, cioè fuori di testa, è una situazione che non può andare avanti così. Cioè non si può rimanere noi a rischiare la pelle, diciamo, per tutelarci. Non c'era fatta, purtroppo, Fabrizio Falugi, il motociclista che lo scorso 11 luglio era rimasto coinvolto in un incirante a stradale avvenuto ad un incrocio della provinciale a Faella, nel comune di Castelfranco. Piandisco aveva 59 anni ed è morto due settimane dopo l'incidente all'ospedale Senese delle Scotte dove era arrivato in condizioni gravissime. E un altro incidente stradale invece questa mattina, a lungo le strade Aretine, poco dopo le 8, coinvolte un'automobile ed una moto in via Salvemini. Ferito un ragazzo di 27 anni portato all'ospedale San Donato in codice rosso sul posto, oltre ai sanitari e i vigili del fuoco e la polizia municipale. Questa mattina invece a Pratacci era stato lanciato l'allarme per un forte odore di gas. A percepirlo imprenditori e lavoratori della zona che hanno così allertato i vigili del fuoco arrivati sul posto con tre mezzi e altrettante squadre. Intervenuta anche un'ambulanza con un'auto a bordo e due sanitari, tra cui la disaster manager e i vigili urbani, che hanno fatto evacuare i presenti mentre i pompieri cercavano l'origine della fuga di gas. In tarda mattinata poi l'autorizzazione per il rientro negli uffici e nelle aziende. E oggi pomeriggio invece il Consiglio Comunale su via Fiorentina, un momento di confronto aperto alla cittadinanza richiesto dalle stesse minoranze che lo scorso 28 giugno avevano organizzato anche un sit-in di protesta. Un Consiglio Comunale che insomma era necessario, perché? Sì, era necessario richiedere il Consiglio Comunale aperto sulla rotatoria di via Fiorentina affinché i cittadini possano conoscere le reali motivazioni per le quali siamo arrivati a delle cifre di 10 milioni di euro. Quindi ci auguriamo la partecipazione di cittadini e speriamo anche noi di capire di più dall'amministrazione quelli che sono gli interventi da realizzare. Sul fronte della minoranza c'è rimasto qualcosa da fare, a parte ovviamente informare che è importantissimo, però mi pare che l'opera sia purtroppo già cristallizzata nella sua strada, nel suo iter. Sì, chiaramente la maggioranza ha già redatto i progetti, ha già preparato tutti quelli che saranno le prossime lavorazioni da fare su via Fiorentina. Quello che noi possiamo fare è cercare di capire e dare il contributo per migliorare quelli che sono gli interventi ancora da fare. Tra l'altro sicuramente sarà forse una delle opere, se non la opera più costosa di questa amministrazione. Poi c'è anche la preoccupazione di come saranno fatti questi lavori, perché quella è una zona comunque nevralgica. Sì, che sarà l'opera più costosa non lo so, perché proprio stamattina siamo tornati anche su un altro argomento, quella della serma di via Filzi e anche lì saremo molto vigili sull'andamento di quella pratica. Chiaramente è un'opera, quella di via Fiorentina, strategica. Abbiamo sempre ritenuto che quell'opera andava fatta, ma come abbiamo detto non va fatta a qualunque costo. I costi sono arrivati veramente a oltre 10 milioni di euro e la cosa che ci dovranno chiarire, secondo me, anche alla luce delle dichiarazioni dell'ex vice sindaco Gamurrini, è perché non si è portata avanti la proposta di fare una rotatoria a raso. Perché secondo me è proprio questo il punto. Quando l'amministrazione comunale ha abbandonato quella proposta che sarebbe stato molto meno impattante e molto, molto meno costosa, e invece ha portato avanti quest'altra pratica, quest'altra proposta progettuale. Sarà un argomento che chiederemo di approfondire proprio oggi in Consiglio Comunale. Il Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari, invece ha scritto ai presidenti di Lode Arezzo Casa e ai sindaci e partiti politici della provincia per lanciare un importante appello dopo la tragedia di Scampia. Un piano casa nazionale per evitare che le tragedie di Scampia si moltiplichino in provincia di Arezzo sono 3.100 gli alloggi in pessimo stato di manutenzione. A lanciare l'allarme è il Sunia, che ha scritto ai presidenti di Lode e Arezzo Casa e ai sindaci e partiti politici della provincia. Le case popolari non sono un tema locale. Quanto accaduto a Scampia è potenzialmente possibile in altre parti d'Italia perché il problema è nazionale. Stiamo parlando del tracollo del settore, ha commentato Stefania Teoni, segretaria provinciale. Da anni denunciamo anche ad Arezzo la carenza per non dire l'assenza di manutenzione al patrimonio abitativo pubblico. Il ripetersi di tragedie non è legato al sé, ma quando accadrà di nuovo. In provincia sono oltre 3.000 gli alloggi in pessimo stato, sparsi tra tutti i comuni, mentre gli introiti degli affitti necessari per la manutenzione sono in continuo calo. Vogliamo interventi prima e non dopo le possibili tragedie. Secondo il Sunia occorre dunque un piano casa nazionale è che non si limite ad interventi sporadici che rincorrano gli eventi ma che collochi la casa tra le priorità. Un progetto anche scaglionato nel tempo, ma con finanziamenti certi e che riguardi tutti gli aspetti. Il sindacato ritiene che un piano del genere debba superare il colore politico. Abbiamo presentato al Senato 45.000 firma a sostegno di una richiesta minima per ridare dignità al settore, ma azioni nei territori che convolgano tutti gli attori avrebbero certamente un altro peso. Le regole sugli alloggi ERPA sono dettate da una legge regionale che nei suoi oltre 5 anni di vita ha dimostrato alcuni limiti. Dato che si parla di una sua revisione, sarebbe utile che gli attori chiamati in causa e che l'hanno applicata abbassero anche su questo una riflessione per evidenziarne i limiti ed incidere positivamente sulla nuova stesura. Un altro appello arriva dalla CGL Valtiberina, in questo caso su Montedoglio, ossia potenziare il servizio e contenere le tariffe. Avrebbe dovuto essere la carta vincente per risolvere i problemi idrici, quantomeno della Valtiberina, sia Umbra che Toscana, ferma Giulia Damario, responsabile di zona della CGL. Invece siamo ancora a dover risolvere problemi di carenza, soprattutto per le coltivazioni agricole. Condividiamo quindi l'appello delle associazioni di categorie cooperative perché sia potenziata l'erogazione. Nella stessa logica condividiamo anche l'appello a contenere le tariffe. Ed ancora un appello, in questo caso, arriva dalla NURSID che definisce molto critica la situazione degli infermieri in Toscana. Uno sciopero in autunno, ad annunciarlo a livello nazionale il NURSID che nei giorni scorsi ha proclamato lo stato di agitazione. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, i maggiori problemi riguardano la mancata attenzione agli infermieri dimostrata dal governo nella redazione del decreto liste d'attesa. Tutte le proposte di valorizzazione della professione, infatti, sono state respinte. È inutile, spiega il sindacato, riconoscere che in Italia esiste una carenza drammatica di infermieri, di cui circa 6.000 soli in Toscana, se poi non si mettono in campo tutte le iniziative necessarie per cercare di risolvere il problema. La situazione in Toscana, spiega il segretario regionale Gian Paolo Giannoni, è critica soprattutto dal punto di vista delle dotazioni organiche. Ancora oggi non riusciamo a garantire ore, riposi e ferie al nostro personale. Lo stato di agitazione, proclamato nei giorni scorsi nei territori dell'Asda Toscana Sud-Est, prosegue Giannoni, è la punta di un iceberg di situazioni molto gravi che riguardano l'intera Toscana. La regione è fondamentalmente assente. Da tempo abbiamo chiesto risposte per le mancate risorse e per le valorizzazioni legate alla professione, così come è stata fatta richiesta di un incontro per un confronto sui compensi per le attività aggiuntive e sul sistema 118 sulla prescrizione infermieristica e sulla libera professione. Non abbiamo avuto risposte su nessuno di questi temi ed è del tutto evidente, concludono che il personale sanitario ormai non ce la fa più. Ancora sanità, nei giorni scorsi la conferenza zonale dei sindaci della Valdarno, la presidente Valentina Vadi ha chiesto chiarimenti e risposte sulla situazione dell'ospedale Santa Maria alla Gruce sulle strutture territoriali. Lo ha fatto nel corso della tre ore d'incontro con l'azienda sanitaria. Dunque la prima questione portata all'interesse dell'ASL ha riguardato lo stato dell'arte e la tempistica dei concorsi da primario per radiologia, chirurgia e pediatria. Poi si è parlato anche della psichiatria della Valdarno e la sindaca e presidente della conferenza zonale dei sindaci Valentina Vadi ha chiesto anche l'aggiornamento sulla riparazione degli ascensori a seguito delle segnalazioni dei cittadini. Le risposte fornite non sono state sufficienti rispetto ai bisogni sanitari e alle necessità di un territorio che ha un bacino d'utenza di oltre 100.000 abitanti ha dichiarato Valentina Vadi. È necessario, prosegue, che l'azienda si muova con maggiore incisività per garantire la qualità dei servizi nell'ospedale del Valdarno nei tempi necessari senza agire solo per tamponare inevitabili emergenze. Voltiamo pagina il mese di luglio infatti era il mese della raccolta e della trebbiatura dei grani nella civiltà contadina e Piazza Grande è stata per secoli il luogo d'incontro tra campagna che produceva alimenti e città che consumava invece il cibo. Per rivivere questa memoria storica ed economica del popolo aretino è stata organizzata un'esposizione di grani antichi raccolti nei campi del tenute di fraternita, farine e vari tipi di pane. nella nuova scalinata di accesso della piazza alla secolare Palazzo di Fraternita sentiamo il primo rettore Pierluigi Rossi. La Piazza Grande è stato l'incontro tra la campagna che produceva e la città che consumava. Poi abbiamo perso questa tradizione però il Palazzo di Fraternita ha sempre visto questo incontro tra la campagna e la città qui in Piazza Grande e oggi abbiamo una scala di Travertino completamente nuova e abbiamo arredato questa scala nuova grazie ai fratelli Pierozzi di tutti gli alimenti che la campagna Rettina produceva. Ci sono i grani anche di Fraternita dei Laici ci sono i vini l'olio insomma una tradizione che noi vogliamo riprendere e promuovere e sostenere l'incontro tra la campagna che produce e la città che consuma qui in Piazza Grande davanti al Palazzo di Fraternita e davanti a questa scala di Travertino Bianca che illumina e aggiorna la storicità della nostra grande Piazza Grande. A noi c'è nel cuore produrre grano nella nostra terra trasformarlo e fare il pane della Val di Chiana al 100% con grani nostri e è quello che ci completa a livello anche di soddisfazione personale e sappiamo quello che il nostro cliente va a mangiare. Mercoledì 31 luglio alle 21 presso Ila Giardino Ardenza si svolgerà l'evento di inaugurazione del nuovo parco pubblico ma anche di una statua in memoria di Francesco Nuti. Madonna che silenzio c'è a Cavriglia è il titolo dell'iniziativa che vedrà non solo l'inaugurazione della statua ma anche la proiezione della pellicola Madonna che silenzio che c'è stasera che venne ispirata all'attore proprio dal silenzio regnante a Cavriglia. L'evento sarà il primo appuntamento della Perdono 2024. A Monte San Savino invece entra nel vivo il festival da una parte la masterclass dei 150 studenti che animano la città dall'altra all'attesa del grande appuntamento con il Candle Light Concert in programma per sabato 27 luglio alle 21.15 nella monumentale Chiostro del Palazzo di Monte. Sabato prossimo il 27 luglio un concerto a lume di Candela all'interno del Chiostro del Palazzo Comunale che è molto scenografico dove verranno eseguiti il quartetto di Male e il quintetto di Schubert e la Trota per pianoforte ed archi e sarà un appuntamento sicuramente molto suggestivo Poi il festival proseguirà questi ragazzi per quanti giorni si formano e rimangono qui a Monte San Zavio? Il festival dura due settimane quindi 15 giorni e la prossima settimana avremo anche la presenza del canto lirico con due docenti tantissimi stranieri che arrivano soprattutto a dei paesi asiatici anche perché giustamente l'Italia è un punto fondamentale per lo studio del canto e faranno un concerto il 2 di agosto in omaggio a Puccini sarà un gala lirico e per concludere il 3 agosto un gruppo di trombe 13 trombe dirette da Andrea Lucchi che è la prima tromba dell'orchestra di Santa Cecilia di Roma all'interno dell'anfiteatro di Palazzo di Monte San Savino faranno il concerto di chiusura insomma se si investe sui giovani e sulla musica evidentemente la risposta c'è i giovani sono il nostro futuro devono prendere in mano loro adesso il testimone e quindi vedendo questa grandissima diciamo carica e voglia di fare questo veramente ci spinge a continuare su questa strada e credo che insomma vedremo dei bei risultati bellissimi frutti solo per farvi un esempio l'anno scorso una violinista che ha seguito qui il nostro festival è stata scelta da Riccardo Muti come primo violino dell'orchestra Cherubini per cui diciamo risultati veramente di grande eccellenza Out of Balance è una performance acrobatica mozzafiato realizzata appositamente dalla compagnia Elena D per gli spazi della fortezza Medici e Aretina per un'esperienza visiva e sensoriale di straordinaria intensità l'evento speciale è previsto per venerdì 26 luglio alle 18.30 e rientra nell'ambito dell'estate in fortezza gli appuntamenti si svolgeranno all'orario della tramonto per minimizzare l'impatto ambientale e il consumo elettrico escludendo l'uso di materiali tecnici e luci e coinvolgendo musicisti dal vivo per amplificare la suggestione del momento artistico e si è concluso invece il primo ciclo di appuntamenti letterari e culturali del Moonlight Festival on tour organizzato da Confesercenti e Feltrinelli la terza edizione ha suscitato interesse e partecipazione nell'etappe San Giovanni Anghiari Castiglion Fiorentino Bibiana la special edition alla museo d'arte medievale moderna di Arezzo si pensa così già al secondo ciclo in programma in questo caso a settembre quando il Moonlight Festival si svolgerà in Piazza Grande e domani invece sabato 27 luglio il centro di Bibiana sarà location di una delle manifestazioni estive più amate di sempre Bibiana Torna a Bibiana un evento molto importante nella nostra estate bibienese ovvero l'evento che ha al centro appunto la birra lo stare insieme il divertimento e appunto il vivere il nostro centro storico di Bibiana un appuntamento importante organizzato dall'associazione Noi che Bibiana che ringrazio qui accanto a me il presidente e uno dei responsabili Ferrini e che dire vi invitiamo a tutti 26 e 27 come vedete a Locandina luglio qui a Bibiana c'è anche la maglietta qui con noi un ringraziamento a Noi che Bibiana davvero di cuore a tutti i volontari giovanissimi meno giovani e a tutte le persone che verranno perché è un'estata ricca di eventi come questo che appunto sono eventi anche che vanno a approfondire dei lati magari meno conosciuti anche la nostra cultura in questo caso quella delle birre artigianali perché devi venire a trovarci a Bibiana perché ci sono hai l'occasione di assaggiare delle birre artigianali tra le più buone d'Italia e in più quest'anno dopo tanti anni ritornano proprio in presenza due birrai ovvero i birrai del birrificio Fatucchio che si trova qui vicino in Valle Santa e quello del birrificio Comedia che si trova a Rignano sull'Arno sì l'associazione Noi che Bibiana che organizza e promuove l'evento Bibiana è un'associazione che molti di voi sicuramente conosceranno però per chi non lo sapesse è un'associazione composta prevalentemente da giovani giovanissimi ragazzi e ragazze di Bibiana e non solo e oltre ad organizzare la Sagra delle Sagre e Bibiana che sono i nostri principali eventi estivi l'associazione comunque si impegna durante l'anno in tantissime altre attività di abbellimento e sistemazione del centro storico e siamo molto contenti appunto di presentarvi questo evento e vi aspettiamo da noi questo weekend Parliamo adesso di giostra della Zara Sciino è stato scelto dalla commissione il bozzetto dal quale sarà realizzata la lancia d'oro della 146esima edizione dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco il bozzetto vincitore e il suo autore però saranno svelati il prossimo 24 agosto durante la conferenza stampa di presentazione della lancia d'oro e adesso lo sport mancano poche ore all'avvio ufficiale delle Olimpiadi di Parigi tra gli atleti in competizione anche la retina Martina Bartolomei residente all'Aterino un'atleta di skit una specialità del tiro al piattello che prevede otto postazioni di disparo e un solo colpo a disposizione per ogni bersaglio lanciato in aria sarà in azione il 4 e il 5 agosto vesti diverse invece per Daniele Bennati CT della nazionale maschile di ciclismo su strada e ci sarà poi a Parigi anche un altro a retino Gioele Rossellini che è partito alla volta della capitale francese come preparatore fisico della nazionale di pallavolo maschile della Slovenia che per la prima volta nella propria storia ha ottenuto le qualificazioni ai giochi olimpici per quanto riguarda invece il calcio femminile l'arezzo calcio femminile annuncia l'arrivo in squadra della calciatrice Beatrice Bruni difensore centrale classe 2004 è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile della Roma nella stagione 2022-2023 è stata capitana della formazione primavera della Roma vincitrice dello scudetto nella passata stagione ha vestito la maglia della Freedom neopromossa in serie B per la Bruni quella che sta per iniziare è dunque la seconda stagione in categoria questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a